La Polizia di Stato ha arrestato a Vittoria nel Ragusano tre appartenenti della famiglia Piscopo, padre e due figli, Marco, Calogero e Francesco, tutti in passato denunciati anche per mafia. Durante una perquisizione la squadra mobile di Ragusa ha trovato e sequestrato due pistole, una rubata e l'altra con matricola brasa, un fucile e centinaia di munizioni. La scientifica eseguirà accertamenti balistici sulle armi per verificare se siano state utilizzate per commettere reati. E' l'ultimo sequestro d'armi in ordine di tempo. Solo un anno fa la Polizia trovò un arsenale nella disponibilità della famiglia Ventura, esponenti stidari del clan Carbonaro dominante. Di questi giorni la scoperta delle nuove armi, questa volta nella disponibilità di uomini legati all'altro gruppo criminale. Con questa operazione la Polizia ha dunque sventato la possibilità di tornare a fare parlare le armi in un territorio, quello vittoriese, con un triste passato di morti ammazzati e di una strage conosciuta come la strage di San Basilio, periodo buio in cui la città ha paura di ripiombare.